allora siamo andati a mangiare no? è venuto in testa una barzelletta così estemporanea facile 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 no allora io ho questo amico cannibale no un po come vabbè allora questo gli ho detto ma tu la mattina che te pigli? lui mi ha detto te e io gli ho detto guarda domani la mattina non vengo e poi caro amico cannibale tu che mangi la carne degli altri senza rispetto della sofferenza altrui non ti offendere se declino il tuo invito a colazione capisci la mia perplessità ma se ti chiedo cosa prendi a colazione tu mi rispondi te io non posso che risponderti beh allora beccate questo te